Alessia Cammarota Alessia Cammarota nuovo tatuaggio, a chi lo ha dedicato? La storia d'amore tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri va a gonfie dele, i due si sono conosciuti grazie al trono classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo mesi dall'inizio della loro relazione la coppia ha pronunciato il fatidico sì, nel 2015 è nato il loro primo genito, Niccolò, ma tra loro le cose non sono sempre andate bene. Eppure il loro grande amore è riuscito a riconciliarli, lo scorso ottobre è nato il loro secondo figlio, Leonardo, l'extronista di Uomini e Donne in passato ha tradito Alessia, aveva anche detto di non amarla più. Durante il periodo di lontananza, la Cammarota aveva dedicato un tatuaggio al figlio, sul braccio si era fatta tatuare una mamma, che tiene per mano un bimbo, nelle ultime ore ha rifatto lo stesso tatuaggio, stavolta però i protagonisti sono Aldo e il secondo figlio. Alessia Cammarota posta la foto del tatuaggio su Instagram. Alessia Cammarota ha condiviso con i suoi fan il gesto d'amore verso il marito e il figlio, postando la foto del tatuaggio sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiunto la seguente didascalia allo scatto, mancavano gli altri due pezzi del mio cuore. Alessia non si è mai arresa quando Aldo l'ha lasciata, alla fine il loro amore ha avuto la meglio e i due vivono felici insieme ai loro meravigliosi figli. Alessia Cammarota